cari quadisti buongiorno dal vostro infero eccoci un'analisi delle sospensioni fox iper mega pro pro che vengono montati di serie su del della canam sull'outlander 1000 abbiamo guardato un altro test tecnico questo fantastico prodotto allora iniziamo innanzitutto chi mi segue sa benissimo che io ritengo che qualsiasi sospensioni di serie cioè di primo allestimento montata su un mezzo sia quasi abbia poco a che vedere con i prodotti che la stessa marca può mettere sul mercato aftermarket con il proprio nome cioè i prodotti di primo allestimento che vengono montati sui mezzi solitamente sono prodotti molto bassi cioè proprio di di primo allestimento prodottini anche ammortizzatori fox in realtà non sono a livello dei fox che vengono venduti poi in aftermarket comunque vediamo vedere questo prodotto fox racing racing shock che viene montato sul canam outlander 1000 alla prima vista abbiamo smontato ovviamente la molla dall'ammortizzatore e dobbiamo dire che il prodottino non è assoluta ma assolutamente male anche se esattamente non molto ben curato per esempio le ghiere di per carico molla sono non mi soddisfano tuttavia loro lavoro lo fanno perfettamente vasca serbatoio di gas e vediamo che il prodotto ha due regolazioni per l'andata cioè la compressione e una regolazione per il ritorno cioè l'estensione allora spieghiamo vi un attimo questo è ancora prima vediamo delle delucidazioni dei consigli che consigliamo tutti i possessori di questo prodotto abbiamo smontato la sospensione nell'esplicito questa sospensione posteriore e abbiamo notato che nelle boccole che servono per permettere alla sospensione di fare il loro lavoro staccando il movimento dal perno quindi queste boccole boccola lunga e le due boccoline piccole la boccola lunga serve per la parte superiore e le boccoline piccole servono per la join ball che è una sfera che gira all'interno della parte inferiore allora le abbiamo tolte e abbiamo visto che erano state montate assolutamente senza la minima lubrifica questo per un mezzo che fa fuoristrada che è soggetto a guadi soprattutto frequentissimi lavaggi e quanto altro il resto è veramente un disastro questo cosa vuol dire vi comporta che mentre voi andate qua entra della polvere se non c'è la minima lubrificazione queste boccole lavorano a secco non sono minimamente ovviamente auto lubrificanti l'acqua la terra entra perché non c'è un minimo di grasso di tenuta e in poco tempo vi si grippano le boccoline quando vi si grippano le boccoline vuol dire che l'amortizzatore quando funziona e deve cambiare il suo angolo di funzionamento non ci riesce perché le boccoline grippate e quindi il vostro mezzo non lavora con omogeneità quando la sospensione lavora cioè a un certo punto della sospensione la sospensione si blocca oppure si indurisce quindi anche se la sospensione fosse una bellissima sospensione e sinceramente sotto questo punto di vista questo prodotto non è proprio malaccio se non viene fatta con la corretta installazione al corretto montaggio delle buccole superiore inferiore il prodotto in breve tempo ha un funzionamento assolutamente non conforme e anche imprevedibile può diventare duro nella prima parte nella seconda nella terza può addirittura bloccarsi mentre funziona senza che questo sia voluto da voi della regolazione che date all'ammortizzatore in altro caso per quanto riguarda le sospensioni posteriori questo c'è un precarico molle e precarico molle si misura dalla fine dell'alluminio fino alla battuta della prima delle ghiere noi vi consigliamo di portarlo a 98 millimetri poi le altre regolazioni ve le fate voi comunque ricordatevi sempre smontatele ingrassatele esternamente internamente e andate ad ingrassare anche il joy in ball qua lo vedete eccolo lì così lo vedete più riempite anche di grasso il joy in ball interno perché veramente molto importante ma enormemente importante per il funzionamento per la vita del vostro ammortizzatore se poi magari questa operazione l'ha fatto una volta ogni sei mesi di ringrassare o almeno una volta ogni anno il vostro mezzo vostro ammortizzatore sinceramente ringrazierà molto vediamo poi alla spiegazione quindi abbiamo detto per le posteriori del mille g max out render vi consigliamo di tirare per carico molle a 98 ovviamente di serie non lo avrete 98 e magari non li avete neanche uguali cioè ce n'è uno un po e uno un po meno cosa che assolutamente è assurdo su un precarico molle quindi portateli tutti e due a 98 dalla battuta qua alla battuta della prima poi veniamo alla spiegazione delle altre regolazioni che ovviamente provvederete a fare voi per quanto riguarda la compressione abbiamo il primo regolo si muove con una chiave del 17 a circa tre giri e mezzo chiudendo indurisce svitando e toglie il freno idraulico e si tratta per questo qua blu che vedete delle regolazioni AIG cioè le alte velocità quando vi trovate delle sconnessioni la velocità che permette la vostra idraulica allo al pistone cioè quanto lui può salire scendere velocemente in caso di sconnessione del terreno se siano i veloci cioè piccole vibrazioni poi invece per quanto riguarda la vite centrale è sempre un regolo di circa tre giri abbiamo la vite che determina la velocità lente cioè quanto in caso di movimento lento l'idraulica riesce a frenare con la sua azione cioè al posto di delegare tutto alla molla la vostra idraulica frena la velocità di compressione cioè per esempio quando voi siete in curva e il mezzo tende a caricare su una sospensione non siete su un salto e tende a comprimersi nel momento del salto o della salita quanto l'idraulica rallenta la compressione dell'ammortizzatore quindi queste oro sono le lente il carico queste blu sono le veloci cioè le vibrazioni o le piccole asperita del terreno in basso invece troviamo queste qua rosse sono ritorno cioè il ritorno che velocità che freno dalla vostra idraulica al ritorno del vostro pompante cioè in pratica quanto rallenta il ritornare in apertura della vostra molla queste sono mi sembra 28 regolazioni più o meno mentre quelle sopra sono semplicemente tra i giri non hanno clic che quale sotto hanno clic che mi sembra sia 98 ognuno deve trovarsi la propria regolazione la base di partenza al di là delle regolazioni sulle quali non vogliamo responsabilità perché lo fate voi poi dite l'abbiamo fatto noi ma è la colpa nostra no lì la cosa che vi diciamo guardate che per essere dalla parte del giusto sicuramente per carico molla va portato a 98 mm per quanto riguarda le sospensioni in posteriore ricordatevi le boccoline e smontare ingrassarla perché così come erano a secco veramente un disastro ovviamente e poi un gris signori dal ferro squadra corsia quadristi.it un salutone fox racing suspension per canam outlander 1000 g2 2015 un saluto